L'estate orsarese 2021 comincerà domenica 13 giugno con l'evento Escursione Naturalistica sui Monti Dauni, organizzato dall'Associazione Verde Mediterraneo in collaborazione con il Comune di Orsara e la Cooperativa Ortovolante. L'estate green di Orsara di Puglia continuerà domenica 20 giugno, quando si potrà svolgere la giornata FAI per l'ambiente, rinviata nelle scorse settimane. Dopo i primi due appuntamenti, anche gli altri eventi che si svolgeranno nelle settimane a venire saranno incentrati su ambiente e patrimonio storico-culturale e architettonico. Tornerà il Fine Confine Festival, che quest'anno conterrà anche una sezione dedicata ai bambini, con ospiti d'eccezione per ciò che riguarda il panorama del teatro e del cinema italiano. A metà luglio sarà proposta una nuova edizione di Orsara in Fiore, mentre a partire dal 24 luglio, ogni sabato, ci saranno le letture piccine al Parco San Mauro a cura di Milena Tancredi. Grazie. Grazie.